Gasperini alla vigilia aveva detto che Bergamo e l'Atalanta si meritavano una grande notte europea. Beh, se la sono meritata in tutti i sensi possibili. Come si sono meritati questa qualificazione ai quarti di finale di Europa League? Dopo due anni l'Adea torna tra i migliori otto della competizione, all'altra volta beccò il Lipsia. Adesso vedremo chi sarà la prossima avversaria, di certo, insomma, nell'otto la qualità c'è, è tanta, ma come l'Atalanta può temere le possibili rivali, anche le possibili rivali sicuramente devono temere questa Atalanta che ha ritrovato il suo ariete, Bomberskamacca, tre gol in tre partite consecutive contro lo Sporting, tutti pesantissimi, tre dei quattro gol nerazzurri, Lukman che come sempre quando la palla scotta la mette in porta, altro gol decisivo nel momento più importante, Miran, ci è un cautore di una grandissima partita, quasi Kopp e De Ketelari che forse erano un po' tra i più attesi, specialmente Kopp dopo la gara di domenica, di fatto non c'è neanche stato bisogno delle loro giocate e del loro estro, questo dimostra che la rosa dell'Atalanta è competitiva, fa paura, lo abbiamo visto alle avversarie, chiaramente, lo abbiamo visto anche con Yen messo in campo da Gasperini per marcare l'avversario più pericoloso, autore di una grandissima prova, insomma una serata da incorniciare in tutti i sensi, in un ambiente bellissimo, iniziato con una splendida coreografia della Nord e finita con i fuochi d'artificio, meglio di così non poteva andare, ma potrebbe essere solo l'inizio di un grande finale di stagione.